Ciao, io sono Claudio e qui sto caricando la mia benella imperiale per un viaggio che mi porterà da San Giorgio di Nogaro fino a Campo Imperatore e si parte verso Chioggia Sto per arrivare alla Laguna Veneta una bella strada in mezzo al mare Ed eccomi arrivato a Chioggia e questo è il camping anche un bel campeggio con delle belle piazzole in ombra ecco la benellina e poi la piazzola in ombra Allora parto da Chioggia alla volta del Passo della Puta Allora parto da Chioggia dalla Laguna Veneta Allora parto da Chioggia Segge often Aspettare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il navigatore mi fa prendere delle stradine divertenti, sì, tante corvette, però col carico che ho alle spalle è abbastanza impegnativo. Almeno non c'è traffico, ecco, poi anche lunedì. E non c'è un attimo di tregua, è tutto una curva. Una sosta per qualche foto, perché i panorami qua si sprecano. E' uno meno di niente. Poi in moto, di si gode proprio al massimo. E' uno meno di niente. E' uno meno di niente. Questo è il paesino di Pietramala. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' questo il paesino di Biancaldo. Si continua a salire. Devo dire che l'imperiale si sta comportando veramente bene. Nonostante i suoi 21 cavalli, per il momento mi sta portando in giro dappertutto. Sono veramente contento. Vedremo nel prosegue del viaggio, che è ancora abbastanza lungo. Altri paesaggi meravigliosi. E' anche qui una sosta fotografica. 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 Ed eccomi arrivato al passo della futale. E' anche qui una sosta fotografica. E' ora direzione campeggio. E' anche qui una sosta fotografica. Ancune foto al cimitero germanico. E' proprio anche vicino al campeggio. E' una bella passeggiata. E arrivederci alla seconda parte.